Oggi è stato un casino, ragazzi, scusatemi, perché tra la moderazione, il problema del fatto di non avere mod, appunto, la Playstation che mi manda uno messaggio a casa, cioè è stata una roba devastante. Secondo me è uscita una bella cosa, comunque. Sì, no, ma è stata una roba non improvvisata. È stata una roba non improvvisata di più, come adesso. Ciao ragazzi, no mods? Sì, non ho i moderatori, ho capito, è finito. Eh, no, no, ci si diverte. Eh? Vedo un po' di donne nude, eh? Eh, ma mi possono bannare? Sì, noi di Twitch. Eh? Un po' di dei peni in chakra. No mods. Per oggi va così, perché non era previsto, non era previsto. Praticamente possono spammare qualsiasi cosa in chat. Eccolo! Il primo pene. Hai uno che posso fare mod? No, no. Eh? No, no. Nessuno. Vabbè, 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 chi se ne frega? Ci saranno sparando delle cose... Eh, non ho moderatori, cioè non mi son preparato, non ho moderatori. E allora, Tito? Vabbè, vabbè, dai, chi se ne frega, facciamoci sto che... Scusa, ma la chat di Paolo era così? Eh, non credo. Eh, Scott, ho fatto mod, prova a vedere. Credo, perché non capisco un cazzo. C'ho la chat intasata di... Di pepe la... Di... Di donne nude, di... Di robe strane, quindi... Non so che cazzo fa, di aerei, di robe strane. Quindi... Sto spammando qualsiasi cosa. Vedi se riesci a fare qualcosa tu. Ahahahah! Sì, non lo so. Eh, potete spammare, spaghettato antifascista, al Moga, programmata per il giorno in cui decidete voi. Audio, audio, Tito! Occhio al pressing! Appassare un di gioco! Aspetta un attimo. Lettura efficace lungo la corsia. Ma non giocare, aspetta un attimo! Angolo? Audio di gioco alto. L'ho cambiato. Manu, ma che cazzo stai moderando che continuano a spammare più di prima? Stanno spammando qualsiasi cosa. Ma che cazzo stai facendo, Manu? Manu, che cazzo fai, Manu? Ah, possono anche mandarmi messaggi sulla Play. È finita, praticamente. Paolo. Paolo Cassi. Paolo Cassi. Paolo, ti faccio subito mod. Ma chi sono i tuoi moderatori? Faccio mod di i tuoi moderatori. Ma non è vero, ma non hai visto nemmeno chi è. Streamer morente. Streamer morente è il tuo moderatore? È uno dei sette. Aspetta, adesso lo faccio mod. Vedi, guarda, guarda che tutti dicono... Ma come fanno a mandarmi messaggi o mi sbattemi i piedi in bocca? Sì, ma secondo me perché... Che è successo? Ma non lo so, ma che cazzo ne so. Dovrebbe e potrebbe rivedere l'assetto della squadra e magari spostare qualche pedina. Il modulo con cui sono scesi in campo non ha dato di qui. Finisco il primo tempo, ragazzi. Cosa? Streamer morente. Aspetta. Paolo Cassi, Paolo Cassi mi fido. Streamer morente slash mod Paolo Cassi. Ma per la play come cazzo faccio? Aspetta un attimo. Come si fa? Ma che dopo? Mi scrivono... Mi scrivono viva m***a. Impostazioni. Notifiche. Visualizza il messaggio a notifica. Notifiche pop-up. Ok, togli, togli. Ok, vai, vai. Non è cambiato niente. Ma che roba è? Non riesco a leggere niente. Cioè, c'è chi Paola è che ci ha mandato la lista. C'è chi Paola è il nuovo follower. Ma dubito che sia lui. Paolo Cassi l'ha messo mod ma trolla sta facendo danni. Inimile a Paolo Cassi nel mod sta facendo danni trolla. Paolo Cassi non è affidato. Ma è l'unico che ha donato per farci. Anmod Paolo Cassi. Rimare ai nostri fuori Paolo Cassi. Allora, Atrox, ti saluto un attimino. Perché c'è Paolo Cassi che dice che mi vuole parlare. Quindi dammi un attimo, ok? Un abbraccio. Oh, Paolo Cassi, eccoti. Paolo? Sì, mi senti? Oh, ti sento, perfetto. Tu mi senti? Sì, sì, ti sento proprio chiaro. Perfetto. Allora, aspetta, intanto chiamo Andrea. Paolo! Oi! Allora, perché sei arrabbiato? No, sono stato ingiustamente tolto da... Eh, io glielo ho detto. Digli, digli da quanto sei mio mod. Ma non è tuo mod. Sì. No, mi ha detto di no. Come no? Hai appena avuto un grande boost. Le prime persone di solito che supportano il canale sono un po' come i primi investitori di una grande azienda. Ok, quindi tu sei il mio investitore. No, Paolo. Paolo, Paolo. Paolo, quanto hai donato al canale di Tito? 800-900 bit, credo. E ti voleva chiedere dal moderatore ed è stato cazziato. Cosa hai fatto tu, Paolo? Io ho tanto la chat sulle mod. Non mi sembra un motivo per cacciare uno che sostiene il canale con 800 bit. Va bene, Paolo, ti do la moderazione. Mi fido ciecamente di te. Fri Paolo. Paolo, Fri Paolo. Fish mod. Da Paolo Cassi a Paolo Cannone è il salto e breve. Eh, esatto. Allora, i peni. Ragazzi, i peni quelli che fanno tipo, fanno un incrocio, non sono bannabili, per cui lasciamo le moderatorie. Io andrò, ne? ... ... ...